Adesso cari amici, volevo, faccio un editorialino un po' particolare, perché è il trentesimo anniversario delle apparizioni della Madonna e Akibeho. Le apparizioni, come sapete, sono avvenute, non è l'anniversario delle apparizioni, è il trentesimo anniversario dell'Ecidio in Ruanda, che ha portato, secondo una stima ormai consolidata, a oltre un milione di morti nel giro di pochi mesi, a causa della guerra civile fra due etenie, ambe due cristiane, quelle di Iutti e quelle di Tussi. Quindi ci siamo già introdotti noi in questa conoscenza attraverso anche un'intervista che abbiamo fatto alla Vergente Nathalie, che dei tre Vergenti è quello che è lì Akibeho, e poi abbiamo visto alcuni articoli. Ora però voglio proseguire il discorso, perché vedo che alcuni giornali laici che hanno trattato questo argomento hanno usato una prospettiva molto politica. In realtà c'è una dimensione religiosa legata alle apparizioni senza la quale non si comprende il miracolo Ruanda, cioè che è dopo una strage di un milione di persone e più a colpi di macette. Quindi c'è stata una riconciliazione reale, vera, fra le due etenie che ha portato questo paese a essere uno dei paesi più prosperi dell'Uran, uno dei paesi più prosperi di tutta l'Africa. Dunque, cari amici, allora volevo completare quello che abbiamo detto nei giorni scorsi e ampliarlo attraverso un articolo che ho trovato di Rodolfo Casadei sulla rivista Tempi, il quale appunto Casadei spiega che questa riconciliazione che è avvenuta in Ruanda è un miracolo di fede e di perdono che ha fatto sì che molte famiglie si riconciliassero. E si descrive questa riconciliazione che comunque ha avuto anche uno spazio nei mass media, specialmente nelle trasmissioni della RAI. Quindi, vorrei dire, è bello questo perché andiamo in fondo verso un tipo di mondo dove l'odio sta mettendo i popoli l'un contro l'altro e quindi bisogna indicare una prospettiva salvifica che è quella del perdono e della riconciliazione senza la quale non avremo mai il mondo della pace. Allora, prima di tutto volevo leggervi questo articolo e poi proseguiamo avendo tempo anche per vedere più da vicino il ruolo delle apparizioni che sono avvenute circa 12 anni prima che ci fosse la catastrofe in Ruanda perché le apparizioni sono incominciate nel novembre del 1982, quindi pochi mesi dopo quelle di Međugorje e la grande carneficina avvenuta nel 1984. Nel 2004 siamo al trentesimo anniversario. Allora, vediamo, cari amici. Scrive dunque Rodolfo Casadei, davvero sotto tonno, almeno in Italia, il trentesimo anniversario dell'inizio del genocidio del Ruanda che si fa coincidere con il 7 aprile 1994. La parte in cui l'aereo che riportava in pati il presidente Utu e Abiyarimana fu abbattuto da un missile presso l'aeroporto della capitale Chigali. Sulle pagine dei quotidiani nazionali importanti come Corriere della Sera e la stampa, io ho letto l'articolo del Corriere della Sera e ho evidenziato che mancava la componente diciamo di fede, non è stata pubblicata nemmeno una riga, cioè il silenzio completo anche da parte del quotidiano cattolico a venire. Benché il Ruanda era presente in uno dei paesi più cristianizzati dell'Africa subsahariana e la Chiesa e i cattolici ruandesi avevano avuto, sia nel bene che nel male, un ruolo di rilievo nella tragedia in cui colminò la guerra civile che fiammava il paese dall'ottobre 1990. Nel corso dei massacri che iniziarono, la notte stessa dell'abbattimento del velivolo, la cui origine resta fino ad oggi misteriosa, con rimpalli di responsabilità fra i sospettati degli opposti campi e che terminarono con la vittoria dei ribelli del fronte patriotico ruandese, cioè i Tutsi, sulle forze armate governative e sulle milizie filo governative utu il 15 luglio del 1994, persero la vita 800.000 appartenenti alla minoranza Tutsi e oppositori utu del governo. Quindi dall'aprile, in poche parole, dal 7 aprile al 15 luglio solo in quell'arco di tempo si parla di 800.000 morti, i più a colpi di macete. Il genotidio fu organizzato e condotto dalla Guardia Presidenziale, da alcuni reparti dell'esercito e dalle milizie uto-estremiste, sotto la direzione dei ministri, generali e prefetti. Molti di loro sono stati processati e condannati dal Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda, istituito dalle Nazioni Unite, altri dalle autorità del nuovo governo ruandese. Altri ancora sono morti in clandestinità o in esilio. Nelle deludente panorama Mediatico italiano ha salvato il proprio onore proprio la RAI. Nei suoi intellegiornali e su RAI News ha riproposto la figura di Pierantonio Costa, il consul onorario a Chigali, che riuscì a mettere in salvo, trasferendoli all'estero con un lasciapassare diplomatico e a proprie spese almeno 300.000 dollari per organizzare i viaggi e corrompere guardie miliziane al confine fra Ruanda e Burundi, ha salvato circa 2.000 tutsi di ogni età e condizione sociale, inclusi 375 bambini di un orfanatrofio. Ci sono sempre queste figure straordinarie, spesso italiane, in situazioni estreme. Non sono rare queste figure che si onorano. Su RAI News è stato anche proposto un filmato in cui viene data la parola ad Anne Marie e Celestine, vittime, vittima e carnefice, uno è vittima e l'altro carnefice, del genocidio che hanno vissuto il percorso dell'espiazione della colpa, del perdono e della riconciliazione. Quindi è stata presentata su RAI News queste due figure, uno il carnefice e l'altro la vittima, che hanno fatto un percorso dell'espiazione, della colpa, del perdono e della riconciliazione. Bellissimo. Però sono stati tanti questi fenomeni. Molti colpevoli del genocidio sono acabati con qualche anno di prigione perché considerati semplici esecutori che hanno agito per il lavaggio del cervello o per ricatti da parte dell'autorità. Istituzioni della Chiesa Cattolica, enti internazionali e altri soggetti ruandesi da anni operano per far incontrare assassini che hanno espiato la pena, che la giustizia ha loro combinato e sopravvissuti che hanno perduto i loro cari per loro mano. L'incontro fra la Tuzzi, Anna Marie e Luto Celestin, che guidava la banda che uccise due dei tre figli dei tre bambini di Anna Marie sotto i suoi occhi, è il risultato di una di queste iniziative. Ogni giorno voglio mostrare quanto ne sono grato per il perdono che mi ha voluto concedere, dice Celestin. Non c'era odio fra noi, ma il governo di allora ci ha convinto che tutti erano i nostri nemici e che dovevamo sterminarli. E Anna Marie dice, puoi scegliere di vivere ricordando e odiando e cercando la vendetta, ma non sarà una buona vita. Per questo ho scelto di accogliere Dio e di perdonare Celestin. E oggi sono serena. Questi sono i miracoli della grazia, cari amici. Che una madre possa perdonare dal profondo del cuore l'uomo che ha decapitato uno dei suoi bambini può risultare incomprensibile solo a chi non ha avuto familiarità con le storie del genocidio ruandese. Quando nel paese delle mille colline si sono succeduti in poche settimane gli atti più crudeli che si possono immaginare e le geste di santità più sublimi. Il perdono ai carnefici da parte delle vittime nel momento stesso del soplizio è una delle sconvolgenti ricorrenze di quei giorni che a percorso in Ruanda nel periodo immediatamente successivo alla fine del conflitto, anche solo per pochi giorni, si è imbattuto da subito in storie di quel segno. Cioè praticamente di perdono reciproco dei riondesi trucidati durante il genocidio stesi. Dunque, a Chigali i missionari ricordavano la storia di Jean-Marie Vianney Giacumba, capocatechista in una comunità cristiana alla perveria di Chigali di Eternia Utu. Per la sua opposizione dichiarata alle violenze contro gli Tuzzi gli era già stata distrutta la casa e aveva dovuto cercare il riparo in un altro quartiere. Saputo che alla testa della banda di assassini che imperversavano la sua zona c'era proprio uno dei suoi catechisti, si era recato senza esitare al loro quartiere generale e aveva messo il fratello della fede di fronte alla sua tremenda responsabilità, ce l'aveva richiamato, ma costui non si era sentito nemmeno scalfito da quel richiamo severo e accorato, aveva ordinato ai suoi di trascinare via Jean-Marie e di sopprimerlo. Si racconta che giunto sul luogo del suprizio il capocatechista abbia preso per l'ultima volta la parola dicendo «Speravo di vivere più a lungo, ma morendo giovane sono felice di morire a 33 anni, che è l'età di nostro Signore. A voi che prendete la mia vita affido la mia famiglia». Quindi voleva leggere un passo dell'escrittore e recitare un'ultima preghiera. Il suo cadavere fu gettato nelle acque del fiume Niabarongo. A Rukomo, nel centro del paese, tutti ricordavano la figura di Efrem, incorruttibile giudice di Etania Tutsi, che aveva rivolto una parola di perdone agli assassini che stavano per trafiggerlo con le loro lance e stava pregando per loro quando lo avevano trucidato. Allo fanatrofio di Nianza, gestito dai padri rogazionisti italiani, e diventato zatter di salvataggio per centinaia di bambini da tutto il mondo, da tutto il paese, si poteva ascoltare dialoghi fra la psicologa e i bambini sopravvissuti all'uccisione dei loro genitori del seguente tenore. «Psicologa, cosa faresti se incontrassi gli assassini dei tuoi genitori?» Noel, di dieci anni, risponde «Gli chiederei conto di quello che hanno fatto». «Psicologa, ma cercheresti di vendicarti o li perdoneresti?» Il bambino, che si chiama Noel, Natale, di dieci anni, risponde «li perdonerei». In quasi trent'anni le associazioni per i diritti umani si sono molto occupate di evidenziare i ruoli dei preti cattolici e pastori protestanti, condannati come complici del genicidio e le chiese sotto scacco a causa della loro vicinanza al deposto regime di Abiyaramina, cioè il presidente Hutu, e della complicità di una parte molto minoritaria del clero negli atti genocidari. Non sono riusciti a valorizzare come si sarebbe dovuto la testimonianza di migliaia di credenti, che hanno rischiato o perduto la vita nel tentativo di salvare tutti i perseguitati o di far deporre le armi violenti. Quindi c'è stata una parte della chiesa e del clero importante che hanno migliaia di laici, credenti, che hanno perduto la vita nel tentativo di salvare tutti i perseguitati e di far deporre le armi violenti. Solo nel caso dei codici Siprien Rugamba e Davros Mukasanga, fondatori della comunità Emanuel in Ruanda, che ospitava centinaia di bambini di strada, è stato iniziato il processo di beatificazione del 2015. Lui, un Hutu, molto famoso, era poeta, musicista, compositore e coreografo, e per anni responsabile dell'Istituto di Ricerca Scientifica del Ruanda, un dissidente era e un pacifista. Inviso al regime, lei, insegnante Tuzzi, sua moglie, che insieme al marito aveva dedicato tutta la sua vita all'accoglienza dei giovanissimi sbandati, si erano rifiutati di abbandonare Chigali insieme ai loro figli, dieci figli, quando la situazione politica si era fatta molto tesa. E con Ciprien piovevano le accuse di tradimento per aver rifiutato la dichiarazione di appartenenza etnica e chiesto al presidente Abia Rimana di rimuoverla dalle carte d'identità nazionali, dove era allora menzionata. Ambe due furono trucidati la mattina del 7 aprile insieme a sette dei loro dieci figli, con i quali avevano a trascorso tutta la notte in adorazione del Santissimo Sacramento, ospitato in un tabernacolo all'interno della comunità, col permesso del Vescovo. Mentre dicevo stavo pensando al futuro, cari amici, perché viviamo in un mondo che c'è tanto di quell'odio che mi chiedo cosa succederà, cari amici, e come noi dovremmo saperlo affrontare, quest'odio, facendo prevalere il bene sul male, l'amore e il perdono, sull'odio alla vendetta. Un racconto narra che D'Afrose, cioè la moglie, si è stata colpita mentre chiedeva di poter recitare un'ultima preghiera, e che il soldato abbia sparato contro il tabernacolo, e che un soldato abbia sparato contro il tabernacolo. O poi il demonio prende possesso delle anime, ovvio. In quei giorni la sorella di D'Afrose, della città di Butare, diceva al telefono a un responsabile della comunità, Emanuele, sono rimasta sola, è vero, ma non sono triste. Dio li ha presi con sé, cioè marito, moglie e dieci figli. Ora occorre pregare perché riusciamo a perdonare. Nessuno conosce tutti gli orrori che il diavolo può mettere nei nostri spiriti. Bello questo. Nessuno conosce tutti gli orrori che il diavolo può mettere nei nostri spiriti. Tutti i fratelli della comunità di Butare pregano perché restiamo, perché perdoniamo. Negli ultimi trent'anni, concludo l'articolo, molto bello, che stiamo leggendo, negli ultimi trent'anni, mai come in occasione dell'attuale anniversario, la testimonianza di fede e di perdono del Ruanda, uscito dal genocidio, sarebbero state una bussola preziosa per i tempi di intermiabile guerra e di vendette implacabile che stiamo attraversando. peccato per l'occasione che si è persa. Cioè si è persa l'occasione da parte della stampa, perché la stampa è così, c'è gli aspetti veramente profondi che sono quelli del perdono e della riconciliazione che sono fondamentali e ben oltre lasciati e questo, cari amici, è come privare il mondo di una medicina senza la quale non guarisce le sue ferite. Mi ricordo sempre quello che diceva San Giovanni Paolo II quando sono cronati i regimi comunisti nel 1991 che c'era il pericolo appunto che diciamo chi allora metteneva il potere fosse poi perseguito da vendette di vario genere non solo i detentori del potere ma anche i loro seguaci e San Giovanni Paolo II non si stancava ad insistere sulla riconciliazione nazionale cioè ricominciare tutti da capo in una società più fraterna. Allora questo riuscì i paesi dell'est europei sono rifioriti e così anche per quanto riguarda questo mondo dilaniato dall'odio cari amici l'odio nei cuori e anche fra le nazioni fra i popoli avete detto la Madonna mi parli nel messaggio del gennaio di quest'anno non c'è altra medicina che il vanciodo e il perdono questo è vero sempre è vero sempre ma soprattutto nelle grandi tragedie che stiamo vivendo oggi pensate per esempio alla guerra in Ucraina la guerra in Ucraina pensate che 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 ferite ha lasciato nei cuori la riconciliazione sarà un miracolo della preghiera e che la medesima cosa è il Medio Oriente solo che i cristiani hanno questa grazia di sapere che le parole di Cristo come il Padre perdona voi così perdonate i fratelli ma chi non conosce queste parole ha bisogno di buoni esempi adesso cari amici mi ha scritto uno che mi ha fatto riflettere mi ha detto Padre Vio lei pensi a queste apparizioni a Chibeco dove la Madonna ha mostrato ai veggenti lo scenario tremendo lo scenario tremendo di migliaia e migliaia di corpi nei laghi nella regione dei grandi laghi anche nel fiume trascinati via dalla corrente ha fatto vedere questo che sarebbe successo e mi diceva Padre Vio ma queste cose la Madonna le ha mostrate anche ai vegetti di Meciugorie perché la Madonna a Miriana quando ho dato il rotolo ha detto Miriana ti ho mostrato molte cose terribili e mi diceva che accadrà anche a noi cari amici siamo ancora in tempo di grazia e di preghiera non aspettiamo quello che accadrà facciamo sì che quello che accade sia la vittoria del bene sul male della verità sulla mezzogna dell'amore sull'odio questo è il nostro compito oggi però anche per il grande pubblico che conosci molto le apparizioni di Chebeco che sono comunque le prime apparizioni per l'Africa ma sono di un'importanza mondiale sono anche per loro che le hanno vissute sono eventi mondiali per tutto il mondo non sono soltanto per l'Africa o per quella regione e vorrei appunto dare alcune notizie che trago che ho tratto molto sinteticamente di queste apparizioni che hanno avuto secondo questa ricostruzione che ha fatto Wikipedia in modo particolare tre ragazze di un collegio appunto nella zona di Chebeco gestito da suore e frequentato da un cittadino di ragazze dalla zona le apparizioni sono avvenute sabato 28 novembre 1991 verso le 12.35 la sedicenne Alfonsin un mure che si trovava nel refettorio insieme alle compagne quando secondo quando riportato nel suo diario sentì una voce che la chiamava recandosi nel corridoio accanto al refettorio vide una donna di straordinaria bellezza vestita di bianco con le mani giunte quando Alfonsin le chiese chi fosse rispose io sono la madre del verbo quindi la madre di Dio del verbo faddocarne secondo il racconto della ragazza la madonna esortò alla preghiera lei e le sue compagne prima di scomparire lentamente dopo un quarto d'ora circa le compagnie di Alfonsin non le credettero pensando che fosse stata vittima di un'allucinazione siccome la prendevano in giro la ragazza chiese alla madonna di apparire anche ad altre ragazze la sera del 12 gennaio 1982 la madonna apparve allora alla 17enne a Nathalie senza che le ragazze del collegio cambiassero opinione due mesi più tardi il 2 marzo 1982 la madonna apparve infine anche la 21enne Marie Claire che era la più scettica del gruppo Marie Claire confisse le altre ragazze della verificità dei fenomeni la notizia si diffusse attirando a Quebec un numero crescente di fedeli sempre secondo il racconto il 19 agosto 1982 ci fu un'apparizione di 8 ore durante la quale la madonna mostrò ai veggenti le immagini dei massacri che sarebbero poi avvenuti realmente nel 1984 Marie Claire sarebbe apparsa per invitare non solo il popolo ruandese ma l'umanità intera alla conversione e al digiuno dei veggenti di Quebec e anche i fedeli di Quebec voi sapete che la Deumaria ha un centro continentale vicino a Quebec per la formazione dei direttori della Deumaria dell'Africa tutti dicono appunto che è un messaggio non solo per il popolo ruandese ma per l'umanità intera una chiamata alla conversione alla paghiera e al digiuno oltre all'amore verso Dio e il prossimo unico modo per conseguire l'unità e la pace nei suoi messaggi la Madonna avrebbe detto fra l'altro questo mondo è sul loro di una catastrofe cose ripetute anche a Međugorje meditate sulla sofferenza di nostro Signore Gesù e sul profondo dolore di Sua Madre pregate il rosario specialmente i misteri dolorosi per ricevere la grazia di pentirvi sono venuto per preparare la strada mio figlio per il vostro bene e voi non lo volete capire il tempo rimasto è poco e vi siete distratti siete distratti dei beni effimeri di questo mondo ho visto molti dei miei figli perdersi e sono venuta per mostrare la vera strada l'altra parte è anche Međugorje ma allora cosa dice vi siete persi i figli miei a Chibeco è stato creato un santuario intitolato Nostra Signora di Chibeco e Nostra Signora dei Dolori vediamo allora brevemente quello che è accaduto nella guerra civile nella guerra civile degli anni 90 fra le Ternier Tuzzi e Utu ci furono massacri spaventosi il 19 agosto 1982 i ragazzi riferirono di aver avuto delle visioni impressionanti fiumi di sangue persone che si uccidevano a vicenda cadaveri abbandonati senza che nessuno si curasse di seppellirli e teste mozzate proprio il villaggio di Chibeco circa tra i 160.000 e i 200.000 abitanti è stato uno dei centri del genocidio che fece in tutto fra le 800.000 e un milione di vittime in Ruanda e centinaia di migliaia di vittime nelle successive guerre che affrissero l'intero continente africano anche nella stessa scuola dove i veggenti avrebbero avuto le prime apparizioni una di loro Marie Claire Mukangango è stata una delle vittime in quel collegio insieme al marito a Chibeco più di 10.000 tuzzi rifugiati nella parrocchia furono massacrati nell'aprile 1994 coloro che si barricarono all'interno della chiesa vi furono bruciati vivi un anno dopo seguì un altro massacro più di 8.000 utu sulla piazza stessa delle apparizioni cari amici voi pensate come furono prese queste ragazze e dalle loro compagne e da e dall'atteggiamento generalizzato di incredulità e chi e dopo quando è successo quello che è successo proprio lì a Chibeco e cioè decine di migliaia di morti da una parte e dall'altra cosa avranno pensando quelli che non hanno creduto anzi che diridevano anzi che prendevano in giro anzi che perseguitavano le veggenti cosa avranno detto o forse avranno fatto anche loro una brutta fine non lo sappiamo lo dico cari amici perché giustamente uno mi ha scritto Padre Lio ma mi sto chiedendo se quello che è accaduto lì che la Madonna ha fatto vedere quello che sarebbe successo e non credevano e poi è successo quello che è successo non toccherà anche a noi dice che siamo increduli e che abbiamo nei confronti della Madonna un astreggiamento di sufficienza di disprezzo a volte anche di aperta persecuzione cioè voglio dire andiamoci piano andiamoci piano a fare i sufficienti e presuntuosi allora cari amici adesso volevo vediamo se c'è tempo sì a me non parte io ho avuto la possibilità di intervistare Nathalie che in tutti questi anni ha fatto una sola intervista se non mi ricordo più un cardinale comunque importantissima tanti anni fa però non le ha più date perché il vescovo l'ha proibito adesso però il vescovo ha dato il permesso a Nathalie di rispondere a un'intervista di Radio Maria ovviamente i vescovi africani e specialmente quelli del Ruanda san benissimo che cosa rappresenta la domania per l'Africa quindi sono sempre molto ben disposti verso di noi allora vediamo cosa ha detto Nathalie in questa intervista di qualche giorno fa lei è molto precisa Nathalie fra le tre ragazze lei dunque Alfonsin è in un collegio in una Alfonsin è in una sono tre dei vecini di Chiebeco quelle veramente vagliate dalla chiesa sono appunto Alfonsin che è in un monastero qui in Italia ma lì crede che è stata uccisa con suo marito nel tempo delle stragi e poi e poi Nathalie che è lì a Chiebeco che si dedica appunto alla preghiera e alla testimonianza lei per esempio partecipa a tutte le riunioni che fanno i nostri direttori le riunioni di formazione che noi facciamo tutti a Chiebeco per tutta la domania dell'Africa quindi per noi una fucina spirituale Chiebeco Nathalie ci dà una grande mano allora vediamo allora questa intervista a Nathalie con una prefazione breve la Madonna apparve dal 1981 al 1989 a tre studentesse la chiesa ha definito tre studentesse le altre le ha lasciate da parte perché ha preso le più importanti tre studentesse del collegio di Chiebeco sono Alfonsin Nathalie e Marie Claire a Nathalie la madre del verbo si mostra a braccia aperte come nell'immagine della medaglia miracolosa la Madonna le chiederà a lei a Nathalie di lasciare gli studi per dedicarsi interamente interamente alla missione da lei affidatale riceve l'incarico particolare della preghiera di espiazione per la salvezza e la pace del mondo una volta la Madonna le ha fatto una prova di 15 giorni di digiuno anche dall'acqua che fu una espiazione tremenda per Nathalie alla quale però è sopravvissuta dunque ecco la sua testimonianza ai microfoni di Radio Maria il 15 marzo del 2024 è sottoscritto Padre Livio sono felicissimo di poter parlare con Nathalie la vecchia di Chibeco ho seguito fin dall'inizio l'apparizione di Chibeco e mai avrei pensato di poter parlare con te benvenuta ai microfoni di Radio Maria Nathalie anch'io vi ringrazio per avermi chiamata a parlare con voi alla Radio Maria d'Italia Padre Livio Nathalie vorrei che ci parlassi della tua esperienza con la Madonna a Chibeco in modo tale che il pubblico italiano possa comprendere l'importanza mondiale di questa apparizione Nathalie la Vergine si è apparsa a Chibeco dal 28 novembre 1981 la Madonna è apparsa a me e ad altre 5 ragazze e un ragazzo poi queste persone qui sono state scremate diciamo Alfonsine Marie Claire Stefanie Agnes Mestin Emanuelle la prima apparizione è avvenuta nel collegio di Chibeco gestito da suore frequentato da un centinaio di ragazze della zona sabato 28 novembre 1981 Alfonsine era con noi nel refettorio quando sentì una voce che la chiamava arricatasi nel corridoio vide una donna bellissima vestita di bianco con le mani giunte quando le chiese chi fosse rispose io sono la madre del verbo a me la Vergine Maria apparsa il 12 gennaio 1982 mi è chiamata per nome e mi ha detto Nathalie figlia mia prega molto prega sempre per il mondo perché sta male il giorno seguente la Madonna mi ha apparsa di nuovo e mi ha detto che lei era la madre di Dio la madre del verbo come aveva detto ad Alfonsine la Vergine Maria apparsa la terza vergente ma di Claire il 2 marzo 1982 siamo stata a lei con il rosario dei sette dolori fra le mani le ha insegnato questa preghiera e a sua volta la ragazza l'ha insegnata a tutte noi la Vergine Maria voleva che questo rosario fosse conosciuto nel mondo intero noi l'abbiamo diffuso in tutte le re marie del mondo perché c'era chiesto Nathalie ci ha fatto sapere che il rosario dei sette dolori è importante ma non sostituisce il rosario ordinario la Madonna si è mostrata a noi come una mamma bellissima buona e semplice noi parlavamo con lei senza paura senza inquietudine proprio perché ci metteva a nostro agio quando ci ha passi eravamo delle ragazzine ma il messaggio che ci ha dato era per gli adulti per le persone già amati nella fede guardandola ci sembrava una donna di circa 20-30 anni indossava una veste bianca e blu che la copriva dal capo ai piedi ci chiedeva di stare attenti a tutto quello che ci diceva e di ascoltare bene il messaggio che ci stava dando la Vergine Maria ci ha chiesto di pregare incessantemente anche per quelli che non pregano ci chiedeva di ascoltare con fede parlava come una mamma parla parla ai suoi figli un'altra mia domanda ma non so se posso leggerele tutte Nathalie puoi raccontarci la tua esperienza quando la Madonna ti ha portato a vedere il paradiso l'inferno del purgatorio risponde la Vergine Maria ci ha portato a visitare questi luoghi per farci capire che la vita non finisce qui sulla terra ma continua in diversi modi a seconda della fede che abbiamo avuto in vita eravamo giovani non capivamo tutto quello che la Madonna ci diceva ma ci chiedeva di non dimenticarlo voleva farci capire che la vita continua anche dopo la morte e che ci invitava a non essere troppo attaccati alle cose materiali perché sono passeggere la Vergine Maria ci chiedeva di prenderci cura della nostra anima come facciamo con il nostro corpo e che dovevamo prendere le cose di Dio sul serio in questo viaggio mistico eravamo con la Vergine Maria e ci sentivamo altrove cioè avevamo un viaggio mistico nell'aldilà vedevamo una luce eravamo distaccati da tutto il viaggio quindi sono riportate nell'aldilà tutte e tre le ragazze attenzione il viaggio è durato più di 12 ore durante le quali la Madonna ci ha fatto vedere diversi tipi di persone in diversi luoghi la prima cosa che abbiamo visto sono stati gli angeli e i santi quindi il paradiso gli angeli avevano vesti bianche la loro fisionomia era quella delle persone bellissime la Madonna ci ha spiegato che gli angeli ci aiutano abbiamo visto anche un altro luogo dove ci sono persone che di tanto in tanto sorridono ma non sono pienamente felici e sebbe purgatorio il figlio ci ha portato a un altro luogo molto brutto dove ci sono persone cattive la Vergine Maria ha attribuito a questi luoghi dei nomi diversi rispetto a quelli che noi conosciamo dal catechismo della Chiesa Cattolica ad esempio dove vivono le persone cattive è il posto delle persone ribelli quindi noi li chiamo i dannati la Madonna li ha chiamati i ribelli che non ascoltano il luogo dove ci sono le persone che sorridono di tanto in tanto il luogo del discernimento in quello che noi chiamiamo purgatorio ci sono le persone che si purificano quindi si purificano e crescono nel discernimento in quello che noi chiamiamo il paradiso ci sono persone felicissime e la Madonna ha detto che il luogo della pienezza della gioia e quelli che vivono lì sono benamati da Dio i benamati di Dio quando siamo rientrati da questo viaggio di 12 ore la Vergine ci ha detto di pregare sempre e di seguire tutto quello che le avrebbe detto per la salvezza a me ha affidato il messaggio particolare per la preghiera delle anime del purgatorio inoltre mi ha chiesto un tempo di digiuno della durata di 14 giorni durante la quaresima dell'anno 1983 durante quel periodo ricevamo solo la santa comunione e questo è il tremendo sacrificio che la Madonna ha chiesto a Natali per le anime del purgatorio un tempo di digiuno totale né pane né acqua della durata di 14 giorni durante la quaresima dell'anno 1983 durante quel periodo ricevamo solo la santa comunione lei riceve solo la santa comunione questo viaggio mistico mi ha aiutato a capire che la nostra vita veramente non finisce qui sulla terra la Vergine Maria mi ha dato il compito di preape le anime del purgatorio proprio durante quel digiuno prolungato la Madonna ci ha parlato della sua sofferenza per coloro che pensano che la vita sia unicamente fatta per mangiare e bere e soddisfare i bisogni del corpo ruverò qualche minuto la trasmissione perché voglio finire dunque l'ultima domanda a Nathalie Padre Livio cioè c'è un'intervista quindi la pubblicheremo sul giornalino prossimo grazie Nathalie per questa bellissima testimonianza vorrei che oggi facessi un'esortazione agli ascoltatori di Radio Maria affinché seguono sempre la Madonna ecco la sua esortazione vorrei dire innanzitutto agli ascoltatori di Radio Maria di dare importanza al messaggio che la Vergine Maria ha dato da Chibeco al mondo intero perché come lei stessa ha detto è indirizzato a tutti sul messaggio della Vergine Maria ci sarebbero tante cose va a dire lo si può trovare in tanti libri su internet e anche Radio Maria ne parla e lo divulga inoltre la Madonna ha detto che desidera che la gente venga a Chibeco in pellegrinaggio la Vergine Maria insiste innanzitutto sulla crescita dell'amore per Dio bisogna amare Dio al di sopra delle altre cose la Madonna ci invita anche a fare passi avanti nella fede e fare attenzione alla miscredenza che si sta diffondendo senza che noi ce ne accorgiamo diventiamo atei senza accorgercene ci ha chiesto anche di pregare incessantemente senza ipocrisia la nostra preghia deve essere unita nutrita dal senso di sacrificio d'atti di penitenza per arrivare alla vera conversione la Madonna Beto D'Alfonsini che la sua vocazione era la consacrazione e le ha chiesto di pregare tanto per la Chiesa che negli anni a venire si sarebbe imbattuta in diversi problemi è in un Carmelo in una in Italia in un convento di clausura Alfonsini attualmente Alfonsini vive in un convento della comunità di Betremme a Gubbio in Italia a Marie Claire la Madonna ha detto che la sua vocazione era quella di essere una moglie e una mamma e le ha dato ad impregare per le famiglie in particolare le ha chiesto di continuare a insegnare la devozione del Santo Rosario di Sette Dolori Marie Claire e suo marito sono stati uccisi nel 1994 Dio li accolga nel suo regno a me la Vergine Maria ha chiesto di rimanere qui a Chibeu e pregare molto per il mondo perché sta per cadere nell'abisso mi ha chiesto anche di accettare la sofferenza come penitenza per ottenere la conversione dei ribelli la mia missione è anche quella di pregare per le anime del Purgatorio la Madonna ci ha anche detto di avere fiducia in lei e di chiedere il suo soccorso lei è sempre con noi anche se non la vediamo con i nostri occhi chiederei a tutti gli ascoltori di Radio Maria di amar sinceramente la Madonna e di avere fiducia in lei e la Madre di Dio ci ama tanto e ascolta tutti un'altra cosa che vorrei dire è che la Madonna quando ci appariva ci mostrava spesso un grande prato fiorito alcuni di questi fiori erano bellissimi atti un po' passiti atti proprio secchi i fiori rigogliosi rappresentano le persone buone che amano Dio e il prossimo le persone che cambiano idea spesso sono rappresentate da quei fiori appassiti che stanno perdendo vita i fiori secchi rappresentano le persone cattive che non rispettano né Dio né il prossimo la Vergine Maria ci chiedeva ogni volta di essere come quei fiori rigogliosi e profumati che fondono il loro buon profumo dappertutto la Madonna ha detto di essere persone che amano Dio e il prossimo senza ipocrisia poi conclude Nathalie vi ringrazio per questa bella condivisione per l'opportunità di raccontare qualche aspetto dell'apparizione a Chibego e del messaggio che la Madonna ci ha dato la Vergine Maria ha detto che questo messaggio preso sul serio è come una medicina per il nostro mondo malato e ho chiuso chiedendo ringraziato Nathalie dicendo grazie Nathalie per questa bellissima testimonianza ti chiedo di pregare per tutti noi affinché che la Dio Maria possa compiere la sua missione di portare il Vangelo in tutta l'Africa Nathalie conclude dicendo anche io vi ringrazio per questa bella conversazione e per l'impegno che la Dio Maria mette nel diffondo il lavoro per la Madonna caro Padre Livio tanti auguri per il tuo anniversario di sacerdozio che hai festeggiato il 19 marzo San Giuseppe sia sempre con te nel tuo cammino sacerdotale preghiamo sempre per voi pregate per noi che Dio ti benedica caro Padre Livio e renda fruttuosi il tuo apostolato a tutti gli ascoltori di Dio Maria auguro mille benedizioni ecco amici questo era doveroso per il trentesimo anniversario di quello che è successo in Ruanda nel 1994 e il miracolo di una Ruanda prospero e in pace cari amici è un miracolo che possiamo ben attribuire alla Madonna e alle varie di intercessione di quelli che hanno accolto il suo messaggio che è un'ottima che è un'ottima